Torna l'estate e la voglia di mare spinge verso la riviera. C'è chi va in bici grazie anche alle piste che diventano sempre più trafficate, chi sceglie l'automobile anche per fare pochi chilometri e poi ci sono i turisti. Inevitabile dunque la sosta a pagamento sulla riviera anche se a qualcuno farà storcere il naso, che però ha una finalità precisa, quella di favorire la sosta veloce che consente la rotazione degli autoveicoli. A partire dall'ultimo fine settimana del mese di maggio e fino al secondo fine settimana del mese di settembre il parcheggio costerà un euro all'ora. La novità è che si potrà pagare anche con il Bancomat. Le zone individuate si conoscono l'area ex Enaip, l'area meridiana e il lungomare Cristoforo Colombo e Viale della Riviera nei tratti delimitati. I prezzi della sosta per l'intera giornata vanno dai 4 euro nella zona dell'ex Enaip ai 5 euro lungo la riviera, 3 euro il prezzo in zona meridiana e nelle due aree di sosta di via Barbella. Sono previsti posti riservati ai residenti, abbonamenti settimanali anche di 30 o di 60 giorni. Per tutte le info è sempre meglio contattare la Multiservice che si occupa della gestione del servizio. E anche quest'anno l'assessore alla mobilità Luigi Alborimash ricorda un piccolo particolare. Le tariffe applicate sono tra le più basse d'Italia, oltretutto per scara un'ampia disponibilità di e-bike e monopattening sharing.